L'Italia di Roberto Mancini affronta l'ultimo impegno delle qualificazioni mondiali al Windsor Park di Belfast. Gli azzurri devono battere l'Irlanda del Nord per ottenere il pass per Qatar 2022. Servono i tre punti e dei gol per tenersi alle spalle la Svizzera. Rispetto all'ultima gara dell'Olimpico, il CT della Nazionale inserisce Tonali nel centrocampo a tre con Barella e Giorginio. In attacco c'è Berardi con Chiesa Insigne, arbitra il rumeno Kovacs. Ritmi subito alti del match, all'ottavo l'Italia vicina al vantaggio. Insigne riceve da Emerson sulla tre quarti e con un destro millimetrico suggerisce un'area di rigore per l'inserimento di Di Lorenzo. Stop e tiro che è una sorta di pallonetto. Peacock Farrell si allunga a deviare la sfera. Al diciassettesimo ci prova da fuori Barella. Ottimo il movimento del centrocampista azzurro, meno la conclusione, troppo centrale. L'Italia gestisce il pallone ma fatica a trovare spazi. Al ventottesimo corner battuto da Berardi è uno schema per Insigne che riceve fuori aria e tenta la sua classica parabola a giro. Facile però la parata del portiere nordirlandese. Al trentasettesimo altra chance azzurra. Ancora Berardi sfrutta un errore della difesa avversaria per ripartire in velocità. Assista a destra per Insigne, controllo e dribbling a seguire ma conclusione debole. Il primo tempo si chiude senza reti. Ripresa che si apre con l'ingresso di Cristante al posto dell'ammonito Tonali. L'Italia riprende la sua pressione offensiva. Al quarantottesimo Bonucci in verticale per Insigne che avanza e poi cerca un diagonale tentativo strozzato con la palla che finisce a lato. Su ribaltamento di fronte l'Irlanda del nord a creare la sua prima occasione da gol. Pallone che spiove dalla tre quarti per il liberissimo Lewis. Bravo a rimettere al centro per la corrente Saville. Conclusione di prima intenzione su cui Donna Ruma si fa trovare pronto. Al minuto 62 altra chance per gli azzurri. Berardi non trova il tempo e lo spazio per il tiro. Intelligente tocco per chiesa in area. Il sinistro a giro dell'esterno della Juve però non è fortunato. Mancini getta nella mischia Belotti al posto di Barella per un'Italia più offensiva. Poco dopo dentro anche Bernardeschi e Locatelli per Insigne e Giorginio. L'Italia attacca in massa ma si espone al contropiede irlandese. All'ottantaduesimo è sempre Lewis a trovare spazio a sinistra e a servire al centro Dallas. Destro è Rasoterra che si spegne a lato. E al novantesimo Washington approfitta di un'incertezza di Donna Ruma. Lo aggira, entra in area ma la sua conclusione a botta sicura è fermata sulla linea da Bonucci. Non c'è più tempo. Finisce 0-0. Gli azzurri chiudono il girone C al secondo posto in classifica con la Svizzera che supera 4-0 la Bulgaria e si prende la qualificazione diretta. Per accedere al Mondiale in Qatar l'Italia sarà costretta a giocare i playoff a fine marzo.